Beh, che dire, basterebbe il titolo. Nessuna recensione all day one per Suicide Squad Kill the Fucking League, o come si chiama. E già, questo gioco super controverso ormai, negli ultimi anni, sviluppato da Rocksteady, insomma una bella casa di sviluppo che ha fatto dei bei giochi su Batman, tutta la trilogia di Arkham, ma che su questo ultimo gioco, insomma, ha avuto grossissimi problemi di sviluppo. Suicide Squad è stato rimandato di un anno, dopo che è stato visto molto manchevole, ogni volta che è stato provato. Ma adesso che siamo veramente a un soffio dalla release del gioco, che esce il 2 febbraio, ma in realtà esce praticamente oggi o alla mezzanotte di oggi, esattamente in accesso anticipato, tra l'altro con una delle versioni ovviamente più costose, come ormai solito fare da molte case di sviluppo, e soprattutto, più che altro case di sviluppo dai suoi publisher, la decisione di mettere 2, 3, 4, 5 giorni in accesso anticipato nella sua versione più costosa. Infatti, per giocare da domani fondamentalmente o da stanotte alla mezzanotte a Suicide Squad, dovete sborsare un centinaio di euro per la sua versione più costosa. E tutto questo, come ho detto nei primi secondi e come scritto nel titolo, senza alcuna recensione della stampa specializzata, perché per l'ovvio motivo che tutti state immaginando, ovvero non hanno mandato i codici praticamente a nessuno. Questo ovviamente è una cosa che fa scattare mille mille sirene, perché di solito quando non si vogliono dare le copie in anteprima per le recensioni, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Non è sempre così, ovviamente, ci sono dei casi in cui non l'è stato per nulla. Uno che mi ricordo, diciamo, dei più famosi è stato Doom Eternal, ok? Doom Eternal, Bethesda non ha mandato a nessuno la chiave in anticipo per fare le recensioni, ma Doom Eternal era un ottimo gioco. Ma in questo caso, e in tanti altri casi, quando succede questo è perché semplicemente il publisher non vuole che si abbiano recensioni probabilmente negative per il day one, o comunque prima del day one. In realtà c'è anche una tegola dell'ultimo secondo, perché ho letto proprio pochi minuti fa che in realtà sì, l'accesso anticipato dovrebbe essere mezzanotte per l'Italia, ma nelle parti ovviamente più a oriente in teoria era già partito l'accesso anticipato. Ma i server sono saltati per aria e quindi, non so, hanno potuto giocare qualche ora o qualche minuto e adesso è tutto down, ok? Ma quello che vorrei dire io in questo video, che non durerà tantissimo, oltre ovviamente a sconsigliarvi di prendere l'accesso anticipato in questi giorni, o anche solo al day one, il gioco, almeno prima che escano delle recensioni, o comunque prima che possiate vederlo, un po' di gameplay vero del gioco finito, da magari streamer, youtuber o quello che volete voi. Quindi oltre a farvi questa raccomandazione, che comunque vi ho fatto anche per altri giochi che erano, diciamo così, molto dubbiosi sulle qualità dello stesso, vorrei fare un brevissimo ragionamento su queste scelte manageriali geniali di non mandare le copie per le recensioni, in modo che poi non si possa avere una recensione al day one. Io veramente non capisco come possano pensare che questa sia una buona idea. Nel mondo di Internet del 2024 ormai, dico che senso ha cercare di non avere opinioni negative dalla stampa specializzata prima che esca il gioco, quando letteralmente ci saranno centinaia, migliaia di recensioni del pubblico, appena saranno passate anche solo poche ore dal rilascio di questo accesso anticipato. E se il gioco è così manchevole e poco divertente quanto sembrerebbe essere, perché è quello che hanno rilevato praticamente tutte le anteprime che sono arrivate negli ultimi anni, comunque queste informazioni andranno virali sulla rete, immediatamente, già domani fondamentalmente. Quindi che senso ha zittire la stampa specializzata e non avere magari delle recensioni mediocri un paio di giorni prima dell'uscita del gioco, quando comunque arriveranno dal pubblico il giorno stesso dell'uscita. Non ha alcun senso, se il gioco non è un buon gioco, tutti lo sapranno molto velocemente. Cosa avranno mai guadagnato in vendite? Qualche migliaia di copia in più perché qualcuno non si è informato? Ma quelli che non si informano comunque non si informano. Cambia veramente poco. Ti sei solamente rovinato l'immagine perché adesso tutti si ricorderanno di te come quello che ha paura di dare il gioco alle testate giornalistiche perché non vuole essere recensito prima dell'uscita. E tutti se lo ricorderanno per sempre. Questo hai guadagnato, insomma, ha infangato un po' la reputazione. Che poi ci va di mezzo anche chi ha sviluppato il gioco, cioè Rocksteady, anche se non credo che venga da lì la decisione. Tipicamente sono i publisher che decidono queste cose. Chi ci mette i soldi per produrre il gioco e pubblicarlo poi decide anche come gestire la comunicazione e eventualmente come gestire le chiavi sia per la stampa o influencer o quello che è. Quindi la situazione è questa, abbastanza triste. Quindi una storia che probabilmente finirà molto male da quando è iniziata alla sua conclusione. Questo non era un gioco che mi interessava giocare, non l'avrei comunque preso, giocato, non mi interessava completamente. Probabilmente non avrei parlato minimamente di questo gioco, tranne però in questo caso specifico, perché questa è una cosa interessante da sottolineare. Quindi attendiamo le primissime recensioni, tra l'altro dopo pochissime ore del pubblico, che molto probabilmente saranno negative. E il bello è che saranno anche molto parziali, perché tantissimi daranno la loro opinione dopo magari un'ora o due ore di gioco. Forse era meglio comunque farsi recensire in maniera più completa da chi poi aveva giocato tutto il gioco, anche se poi magari avrebbe dato un parere non positivo. Chi lo sa? Ehi, ma loro sono i supermanager, sanno quello che fanno? Vero? Vero? Non lo so. Voi cosa ne pensate ragazzi? Fatemelo sapere sotto nei commenti e ne discutiamo. Comunque, noi ci becchiamo prossimamente per altri video qua, sempre sul gaming. Grazie per l'attenzione, grazie per il supporto sempre, statemi bene come sempre, alla prossima! Grazie per la visione!